Sono la mamma di Matteo, sei appena stato denunciato Ma che cavolo Riff Ma che cacchio zio Allora, è un po' ambigua come cosa Perché ti avrebbe dovuto denunciare, scusami? Infatti, allora, chiediamoglielo direttamente subito Signora, ci può dire il motivo della quale Questa denuncia? Perché questa denuncia? Ma che cavolo? Mi dispiace, voi avete insultato e fatto piangere mio figlio Adesso basta, ho chiamato la polizia Ti stanno già venendo a prendere Ma finché? No, no, no Se tuo figlio piange per qualsiasi cosa La denuncia però non è che denunci così a caso Ma che cosa è? Scusami Infatti, no, 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 ovviamente ci sei anche te dentro la denuncia Sappi, no, non è che sono io Con cacchio che ci sono anche io dentro Io non c'entro niente, anzi per me Matteo era anche un bel nome, avevo detto No, 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 io Ma per me era più bello di Andrea e Riccardo Cioè io ero addirittura con lui, capito, in questa cosa Sei tu che avevi detto che Riccardo era peggio del nome Io non mi ricordo molto bene Ma smetti di pararti le chiappe, vecchio Ha denunciato te, non me Difficile, non lo so, allora facciamo così Ragazzi, voi nei commenti che avete sentito che era Riccardo Per favore di non denunciare a me, ma Rife, per favore Ma ma che infame che sei, ma sei assurdo Scusami, ma io non voglio essere denunciato Intanto è morto di nuovo, ma No, 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 scherzo, non è morto Mamma, vedi che tu sei un pirla, ma tu devi fuori cose a caso Poi vuoi far denunciare, ma che cosa stai dicendo? Vabbè, senti, ok, ok, mi apprezzo Ok, accetto la denuncia, senti, signor Signor Matteo e signora mamma di Matteo Signora sicuramente molto brutta Di poche conoscenze nobili e altro Che cosa stai dicendo? Stai insultando una persona Che ti vuole denunciare, tu sei tutto scemo, frate Perché quella vacca dobbiamo... Allora, sentiamo che ci mutiamo un attimo Matteo e signora Ci mutiamo un secondo, forse è meglio Ok, Rife mi sono mutato Porca di quella vacca, ma cosa facciamo? Eh, cosa fai? Io ripeto che sta denunciando te, non me Senti, Matteo, tieniti sti scudini Anche se lui non ci sente, prendi, rimangeli E non ti denunciare Comunque ragazzi, io vi chiedo un mega super like Per il massimo supporto nei nostri confronti Una bella iscrizione E soprattutto nei commenti Hashtag free ferro Perché dobbiamo liberare Questa è una brutta cosa No, è anche codice ferro, signori Ricordatevelo che è sempre importantissimo per supportarmi Matteo Io so che Matteo non te lo utilizza E quindi lo dovrei denunciare io per questo Ah no, è vero In realtà è solo un modo per supportarmi Ma se lo fate mi fate un mega favore Quindi grazie a tutti Comunque adesso, Rife, che facciamo? Io sono ancora mutato, non ci sta sentendo Allora, adesso noi Che me sta pensando che tipo Noi adesso ci smutiamo E iniziamo a dire tante parole gentili Sia verso di lui che verso sua mamma D'accordo? Ok Quindi non dirgli le cose a una brutta persona Mi fa... Belle parole, ok? Ok, ok Un bel complimento è Quando ti guardo Mi ricordi per il ornitorinco Va bene, va bene, vai, vai Iniziamo Allora, sei pronto Pronto Ciao signor Matteo Noi ci siamo appena smutati Perché hai usato quelle cavole Che stavo utilizzando questo brutto nabbo di Volevo dire Ferro, ferro, possiamo mutarci un secondo per favore? Ci rimutiamo un secondo Sì, scusami Matteo Dacci solo un secondo Ma che c***o Vai ferro! Allora senti Ok Ma l'hai visto che ho usato le giacche Ti ho detto Fai bravo Fai il bravo Poi tu, se vuoi uscire da questa situazione di cacca Devi ascoltare Zen Refit D'accordo? Zen Refit Ok Adesso ti smuti E gli dici Dubidubiduba 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 Ok, ok Non ci può denunciare Signor Matteo Quindi O signora mamma di Matteo Conferma che vuole togliere la denuncia Anzi Ci vuole fare un complimento Per come stiamo trattando suo figlio La condanna verrà aumentata E andrete in prigione Cosa? Andremo in prigione Refit? Va bene che non ti piace Fini a se ferme Però mi sembra esagerato Era una canzone Ma infatti La condanna è stata aumentata Non era un... Non era un... Cosa ha pensato? Scusami Forga di quella vacca Questa è colpa tua È quasi esploso Matteo Però è esploso È esploso Ti salverò io Stai tranquillo Matteo Però devi confermarmi Che in cambio non mi denuncerai Né te né tua mamma ovviamente Quella brava donna Oh porca vacca Mi ha appena passato un razzo vicino Allora Refit Cosa devo fare? Oh Zubi 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 Porca vacca Zubi 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 Matteo salva Ferro No Ferro non sal... Cioè vabbè Non lo so Oddio Senti Matteo Io ti ho salvato Io mi merito di non essere denunciato Lei non c'è solo Refit Che cavolo me ne frega di lui Ma scusami Ma che cacchio vuoi da me Ma io non ho fatto niente Senti l'unica cosa che voglio in realtà in questo momento E non essere denunciato E killare questo cavolo di nemico Che c'ha un'arma molto carina Che... Sono d'accordo Sono d'accordo Però se muori sei stupido Ok No 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 Non posso morire L'ho già distrutto Vai Matteo Vai Matteo Potrebbe essere un'ottima coppia E no in realtà sono troppo più forte Io Ma Ferro Ci sto in un altro team Ferro non devi dirgli che sei più forte di lui Per favore Giusto è vero Matteo siamo forti uguali Dai almeno questo Cioè non posso dire che sono più scarso di lui L'unico modo per non essere denunciato È quello di regalarmi il tuo canale YouTube Ma che cavolo No 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 Allora Ferro posso dirti una cosa? No Non me la puoi dire Ma mi vuole rubare il canale YouTube Se qua mi denuncia Ma no 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 Ti volevo dire se lo passavi a me Cosa? Il canale YouTube ovviamente Eh piuttosto di darlo a Matteo Darlo a me no? Cioè tanto ormai denunciato Ma lui mi sta per denunciare No 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 Allora c'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va anche con te Questo personaggio qua molto particolare Ci esce la faccia Perché io ho paura che sia un troll Nel senso che è un troll delle caverne Cioè tu stai insultando Matteo Tu stai ancora insultando Matteo Oh no 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 Intentevo che fosse uno scherzo No 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 Matteo Matteo hai la mia stima Se lo denunci Veramente No ma che cavolo Non solo non vedrai la mia faccia Ma verrai pure denunciato da mia madre Vabbè Puoi vincere una partita per risolvere tutto Ferro Ok È quello che sono in grado di fare Quindi accetto Anche se qualora dovessi denunciare a me Denuncia anche Refe Aspetta ma la domanda è Accetti che cosa? C'è un albero Un tronco Cosa accetto? Accetto il fatto che non mi denuncia Qualora dovesse andare a vincere la cavolo Ah ok Scusa Comunque Ferro Scusami se te lo dico Ma non capisci poco niente Era una fantastica battuta di Refeeds questa Ah eh Beh complimenti Era veramente bellissima Comunque senti Matteo Ho appena killato un Razzo Sto per venire killato Mamma mia che bella Kill che ha fatto Matteo Complimenti Matteo sei molto più forte di Ferro GG Siete Dove esagerare Comunque ricordati che Ah Eh vabbè Ferro Però devi essere più attento Invece che insultare Matteo Doversi pensare a giocare Matteo hai cure della vita Bravissimo Bravissimo Oh no 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 Però siamo bloccati in un boxerello Troppo piccolo per i miei gusti No 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 aiuto Matteo fai qualcosa Bravissimo Ok 92 a 1 92 a 1 93 Sono così demolito Aiuto Oh bravo Matteo Che bella kill che hai fatto Mamma mia quando sei bravo Ok porca vacca Questo mi sta prendendo Tutti i colpi Questo qua è troppo illegale Matteo vai aiutare Ferro Che sennò senza di te Muore come ogni volta Gli ho fatto un 92 Zio possiamo farci Vabbè Più che zio Matteo Aiuto No no Matteo Matteo salva quest'uomo Per favore Matteo Signor Matteo sei rimasto solo tu Allora l'importante è che la vinci Quello che Quello che costa non è importante Piuttosto denunciami Ma vinci la partita Aiuto No Matte Non ci credo Matteo Vabbè Ferro guarda l'altro positivo Adesso sei denunciato Allora signor Refe Ultima possibilità Per non farci denunciare Prima cosa Fate arrivare almeno Questo video a 5000 like Così c'è la possibilità Che magari Matteo Giri qualcosa di storto E non mi denunci Soprattutto a sua mamma Seconda cosa Partono da ora 5 minuti di tempo Siamo in arena Siamo in duo Siamo soli contro duo Praticamente E chi riuscirà a fare più kill E soprattutto a sopravvivere Per più tempo Di questi 5 minuti Vincerà Questa non rinuncia È morto È morto Hai vinto Hai vinto Ferro fai una kill Hai vinto Ok zitti tutti Zitti tutti E porca di quella vaga Però comunque ho messo troppo male Fermi Ok È tuo È tuo È tuo Non ci posso credere Devo pusciarlo però Allora dovresti Poi 25 colpi Io starei attento Ok Porca vaga Non riesco a passare dalla cosa Sì sì no devo farlo Devo farlo Fidati di me Fidati di me Non c'errà pure questo Vero E non lo so Non lo so Bravo Fai la kill Fai la kill Ti chiede non ci ora Scusami Ma cosa Ma forse siamo noi Che possiamo denunciare te In questo momento Ah la 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 Caro non esagerare Prima che cambi idea La madre Ci voglio denunciare Veramente di nuovo Ok Sì vero Comunque una delle Delle basi regole Delle sfide Diciamo in duo Contro Cioè solo contro due È quello che bisogna Restare l'amico Finché si invita Quindi Me la prenderò con calma Ma purtroppo Mi toccherà arrestarlo Prima o poi Quindi mi conviene Farlo veloce Perché è già passato Un minuto e dodici No no in realtà Aspetta fammi fare ancora Una piccola kill Non dobbiamo dirlo Ma io in realtà Penso che se tu adesso Morissi ok C'eresti la sfida Sì ok Bell'idea Però non lo so Non mi piace A me vincere la sfida Tu vuoi essere Una persona leale Ti fa onore Ti ringrazio Allora L'onore me lo deve fare Non fare odore Nel senso che non devo Nelle spaventare Non le denunce Devi lavare Se non vuoi fare odore Sì giusto Ma mi sono lavato prima Infatti non dovrei Vabbè sentite Non è questo l'importante L'importante ora È sapere che qua Davanti a me ci sta un team Di due persone Quindi io Ti ammazzeranno per forza Di cose Tu adesso muori Chill chill Broom broom Ne sei sicuro Chill chill broom broom Ma sicurissimo Ne sei proprio sicuro Questi ma cavolo Sono i mongrali italiani Più forti al mondo Scusami Chill chill broom broom Ok Fatto fatto Hai distrutto Perché c'è un tizio qua Davanti a me Che non mi ha ancora Parato ma Porca vacca No 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 Allora io davanti Io dietri Che faccio Ti davanti e dietri Ma non sei dirieti Ok vero Porca vacca Vabbè correre Corri Corri e vai a restare Il tuo michel In tutto questo Sono passati due minuti e trenta Quindi ancora tutta viva La sfida Dovrei restarlo Ma c'è gente che mi spara Quindi non posso Per proprio scelta Capito Ah ok Quindi cioè tu sei obbligato A non restarlo Giusto Però a scappare Puoi farlo Vai a busciare dai Vai a busciare ferro Come vai a busciare No 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 Col cavolo che buscio Vai a busciare Cioè vai a busciare Immature di concludere Con l'onore Con me E scappi No c'hai ragione Però allora Allora va bene Non posso restarti Ti ripeto Solamente per un pro Cioè per un fatto Che capito Non posso restarti Cioè non vuole Non vuole Io Devi stare zitto Non devi dirlo Non andate a te Zio sono davanti a te Se non li fai adesso Sei stupido Sei stupido Quindi se non uccidi una persona Tu sei stupido Ho capito Ho capito che persona sei Ho capito che Ho fatto 100 white Scusa Non è morto 200 white Non ne hai fatto 100 white Sarebbe a terra Non credi Lo credo Ma credo anche che Questo tizio è molto forte Porca vacca Perché ce ne sono sempre 18 Ok Zitti tutti Puoi smetterla di scappare bro Per favore Un secondo Fermati Ma c'era quello che hai fatto tu prima Non esageriamo adesso Ma basta Non ho colpi pompa Non ho colpi pompa Sono praticamente 3 minuti e 45 Ma porca vacca Comunque signori Direi che questa denuncia Non ce la beccheremo Quindi mi dispiace Signor Matteo Non voglio più sentire la sua voce Non voglio più sentire la voce Di tua mamma Non voglio più sentire nulla Assoluto Per favore A vita E a voi vi ricordo di lasciare Un bel pollice Su iscrivervi A tutti i canali Ovviamente Corri di ferro Nel Lego Soggetti Per supportarmi Veramente al massimo Signori Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao Rebbe